Kylie Jenner rivela i suoi cibi preferiti, e vi stupiranno Anche lei lo ammette candidamente, Kylie Jenner vendeva rossetti e lip kit prima ancora di raggiungere la maggiore età, e probabilmente essere la sorellastra di Kim Kardashian l'ha segnata profondamente nel modo in si guardi allo specchio ogni giorno Per fortuna, però, Kylie è anche umana. E a dimostrarcelo ci pensano i suoi gusti infatti di cibo Kylie Jenner, sotto sotto, è una ragazza come tante. È davvero difficile associare Kylie Jenner ai suoi 20 anni. Ed è altrettanto difficile associare Kylie Jenner a un regime di alimentazione assolutamente normale La sua linea perfetta è il frutto di tanto esercizio, un bisturi sapiente e una decennale esperienza nel mondo del make-up Ma che cosa mangia Kylie Jenner per essersi trasformata nella Barbie Armena più amata di tutti i tempi? Ci svela l'arcano il suo reality show personale Una cosa assolutamente ordinaria, il celebre life of Kylie che la mette sotto i riflettori e la rende la protagonista indiscussa delle telecamere Nel corso di uno degli episodi dello show, Kylie fa a luce su uno dei dubbi che assilla i suoi fan di lunga data Lei e sua madre Chris si stanno recando ad un ristorante, e la socialità mostra il vero significato delle parole così affamata da essere arrabbiata. Purtroppo, però, la carta è troppo sofisticata per i suoi gusti assolutamente comuni Kylie Jenner desidera ardentemente un piatto di spaghetti al formaggio, ma l'unica cosa che ha da offrire il ristorante è un cuore cialpaca Kylie Jenner, spaghetti e guacamole. Non voglio mangiare questa cosa, non mi riempirà di sicuro. Voglio solo i miei dannati spaghetti, spiega Kylie Jenner senza mantenere la calma, e mettendo in bella mostra i suoi 20 anni L'ultima volta che ho mangiato è stato in aereo, patatine e guacamole. La madre Chris, però, non ne vuole sapere, lei adora il cibo sofisticato e non vede l'ora di sperimentare con la cucina Kylie Jenner, dal canto suo, ha dato prova di amare il cibo di tutti i giorni, e in più di un'occasione ha dimostrato di volersi cimentare in ricette da Theenager professionista Qualche mese fa ha condiviso con i suoi fan su Snapchat una rapidissima, golosissima ricetta per un tosta al formaggio di tutto rispetto E se pensate che fare un tosta non sia poi una grande impresa culinaria, aspettate di vedere il suo canale YouTube dedicato alle ricette Cooking with Kylie offre una modesta gamma di ricette golose, tra cui le patate dolci candite, i tacos e i cinnamon rolls Non vorrete rubarle tutti i segreti della sua linea? In linea di massimo, Kylie Jenner non rinuncia mai al carboidrato. Già che c'è, fa in modo che il suo consumo di questo pericolosissimo alimento ne valga la pena Ecco perché ama i cibi ricchi e pieni di sapore, eppur avendo avuto una fase vegan, la sua dieta include per lo più riso, uva, tè, kale, asparagi, carni bianche, soprattutto in salsa teriyaki, avocado, tante verdure e patatine fritte Grazie a tutti